Prima vittoria della polisportiva Palermiti nel nuovo campionato di terza categoria e nel girone F. La squadra di casa ha avuto ragione della Soveria Simeri, chiamata anche con il nome di Piragna quest'anno, per 4 a 2 con una tripletta del Sempiterno Gullà e il quarto gol di Donato, mentre per la squadra ospite ha segnato una doppietta prudente. Un primo tempo all'attacco proprio per la squadra di casa che finisce sul 3 a 0, poi nel secondo tempo la squadra di Mr. Macri è rimasta a controllare e poi alla fin fine è riuscita anche a contenere l'eventuale ritorno della squadra ospite. Dicevamo prima vittoria, anche se obiettivamente in terza categoria si è giocato poco, questa è la seconda partita, visto che quella precedente è stata rinviata domenica scorsa. Un'altra annotazione per la polisportiva Palermiti viene dal fatto che sono stati in pratica chiamati e assolti i dirigenti, il presidente e alcuni giocatori dalla situazione un po' antipatica che si era creata lo scorso anno nella partita del Semeri e Simeri. Tanto è vero che ultimamente sono stati scagionati e questo è un fatto positivo perché dimostra come sempre a Palermiti non ci sono situazioni critiche per quanto riguarda lo sport, ma si cerca soltanto di fare la possibilità di portare avanti qualcosa di positivo per i giovani. E questo è tutto da Palermiti.